Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Il 2 febbraio, a Padova, si terrà la cerimonia di conferimento postumo della laurea in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, tragicamente uccisa dall'ex fidanzato pochi giorni prima di discutere la sua tesi. Il senato accademico dell'Università di Padova ha approvato la delibera, e i familiari ritireranno la pergamena durante l'evento. La giovane aveva consegnato il testo della tesi prima di essere vittima di un tragico evento il 11 novembre. Turetta, l'ex fidanzato, non accettava il successo accademico di Giulia né il suo desiderio di intraprendere una carriera come disegnatrice di fumetti e illustratrice. Il criminale è stato arrestato in Germania dopo una fuga di una settimana. Ha confessato il delitto alle autorità tedesche e ora è in attesa di affrontare il processo in Italia. La Fiat Punto Nera, utilizzata nella fuga, sarà sottoposta a ulteriori accertamenti giudiziari dopo il suo arrivo in Italia. La tragica vicenda ha scosso la comunità accademica e la cerimonia del 2 febbraio sarà un momento toccante per onorare la memoria di Giulia Cecchettin.